Ragazzoli belli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, come avete visto sicuramente dal titolo e dalla miniatura, andiamo a provare insieme un nuovissimo gioco che è uscito proprio da due giorni. Un gioco dell'EA Games e stiamo parlando di Rocket Arena. Un gioco ragazzi 3 contro 3 con diversi personaggi, ogni personaggio ha le proie abilità ed è una figata assurda. Ho avuto modo di giocarlo con noi miei amici e ci siamo divertiti tantissimo. Abbiamo fatto una cosa come 10 vittorie e una sconfitta subito nelle partite classificate che sarebbero le Arena. Ci siamo divertiti un mondo, è veramente un gioco bellissimo. Prima di iniziare con questo video vi invito a lasciare subito un bel mi piace per supportarmi. E vi ricordo che un'ottima di iscrivervi su Twitch tutti i giorni, trovate il link qui sotto in descrizione dato che comunque sono in live tutti i giorni. E vi ricordo inoltre che se non avete ancora visto e acquistato qualcosa del mio merchandising, vi invito ragazzi a visionare il sito che trovate qui sotto in descrizione per la nuova edizione del mio merchandising. E se acquistate qualsiasi cosa ricordate di taggarmi su Instagram. Ma è tutto ciò ragazzi, adesso andiamo subito a vedere come è fatto questo gioco e iniziamo con il tutorial. Woo! Ah, così sparo. Ah, è rompizzato, sì, sto facendo il tutorial. Così carichiamo, ezz. Possiamo saltare fino a tre volte. Poggers. Il game si è rinomato per fare comunque giochi dinamici e veloci, eh. Lo si vedeva da... da... Da Apex. Questa cosa mi ricorda tantissimo un gioco che ho giocato tempo fa. Bellissimo. Poggers! Quindi facciamo di pam, pam, pam. Vadoo, super dinamico. Sì, lo sto provando per la prima volta adesso. Vadoo, ragazzi. Usa la schifata per evitare i razzi avversari. Come? Ah, quella qua. E' bello, vuoi assaggiare? Vabbè, ezz. Ah, ok. Se rischi di andare fuori mappa ti puoi salvare. Va bene, questo era palese. Capisce l'avversario e riempie la loro barra boom. Più è piena la barra boom, più lontano sarà una spara di razzi. Così è la bomba. Ok. Abilità secondaria. Contasso destro, giusto? Ok. Holy shit. Che vuol dire? Mio sullo sinistra. Ah. Ah, questo qua tipo segue il target, chat. Visto? Pog, cioè, questo qua è fighissimo. Perché segue il target. Raccoglio un oggetto. Zibadlone, vado. Ok. Usa il turbo. Allora, finisci, dai. La bomba con E, l'abilità secondaria con destra, l'abilità speciale con shift. Figo, 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 figo. Ok. Eds. Quindi i tasti l'abbiamo capiti. Devi riempire la barra. Siamo di lui c'è una barra. Ah, sopra di lui. Non l'avevo capito, raga. Eh, di Venom ti dice che devi fare forza un gioco contro i bot. Per sbloccare le altre. Ah, gioca ora? Ah, knockout razzo bot, dici. Eh, perché tutto il rato... Eh, quello devi fare. Ah, c'è il cammino sullo skateboard? No, 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 aspetta. C'è un personaggio che si sdoppia, te lo dico. Io usano questo. Quindi posso fare così? No, parca. Quasi tryhard, te lo dico, eh. Sì, ma c'è un personaggio... che si sdoppia in due. Cioè, spariamo in due. C'è una mistenda. Ok, poggers, portano una. Quindi, tu tenti di riempirei tutta la barra dei mica rossi e poi lo ammazzi. Sì, credo. Ok. Granatina. Vuoi assaggiare? Cosa fa la Q? Cosa fa la Q, parca? Scrivi rozzi, scrivi rozzi. La Q l'ha schivata. Ah, ok, vero, vero, vero. Sparro al razzo. Quindi, devo vedere cosa fa lo shift di lei. Usa mega regalo. Ma anche il tasso destro. Ah, ma il... Ah, vado velocissima. Usa fascia da ninja. Un saluto. Il tuo tasso destro è la gerarda. Ma quello cambia. Eh, ma è forte, vedi, sto personaggio. Sì, sì, sì. È molto veloce. Cioè, dojo tantissimo. Ho trovato uno che, secondo me, è un supporto. Perché si sdoppia e è lento. Non va veloce, è lo scudo. Però, ma è bellissimo. Cioè, è dinamicissimo. Beppe, beppe. Quindi, c'ho 16 colpi in canna. Se arriva a 10, immagino, per vincere, giusto? Sì. Cioè, comunque i colpi non vanno. Cioè, non seguono il tar. Quindi devi essere tu, comunque, il tar. È bene. Granatina, vuoi assaggiare? Vabbè, easy, cioè. 10 a 1. Quindi ora si può giocare, giusto? Sì. Ragazzi, quella che ha fatto la skin. Quella ha fatto la skin. Spazzo. Ti va fuori il c***o, ragazzi. A me puoi giocare da quanto vuole lui. Lo spacco di volte, fratele. Vai, ti dà il c***o subito, bravo. Oh, vai, arca. Mi stavo a prendere il culo. Quello sì, se ne è scappato, per quanto lo ha trotto. Ma è lo segnato, si b***o. Ma come è lo segnato? No, aspetta, in che senso? Dove si segna? Dobbiamo segnare. Dove la palla? All'altro, all'altro. Ecco, sì, si raccoglie. Ma vai, arca, raccoglie la palla. Lancia, l'ho già sta palla di me. Con la F, l'ho tirata. Gata! E' il bambino più forte d'Europa, ragazzi. Subito. Ho un c***o. Ho preso lui, l'ho preso lui, l'ho spaccato, l'ho spaccato. Questo qua che vola. Quello l'h che dice K.O. Sparate a quello. Io sto morendo. Quasi K.O, è quasi K.O. La palla, la palla, l'ha tirata, l'ha tirata. Come si raccoglie? Freccia. Spara con la F, si spara lontana, sparano lontana. Ma devo segnare nell'aeroporta? Sì. Corro. Quello dietro te lo sparo io, vai vai vai. Forza, segno? Mi sto scoppiando questo diato. Che pure sto spaccato a uno che ti segue. Segnato, Alessco! Dai, ragazzi. Compiti di vita subito. Non ce n'è, non ce n'è. Mi stanno spaccando, ragazzi. Ma dove ho la palla? Ma che sta fanno questo? Oh, è qua la palla. Oh, è qua la palla. E c'è lui, questo davanti a me. Spaccalo, spaccalo, capò, capò. Aspetta la palla, appoggia la palla. Ma che è morto? Morto una, morto una, morto una. Ho segnato, ho segnato. Vai, marga. Mi troppo. Io non ci so uno, c'è il personaggio quello grande. Questo che vola, lo sto spaccando, vai vai. Morto, quanti KO. Vai. Quello che vola, io ho fatto malissimo. Questa, uno KO. Questo che sta manendo, questo che sta manendo, vai vai. Questo è svoluto, sì, sì. Vai, 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 vai. E muore sicuro, è morto. Ma la vada a portare in porta. Se è per la palla. No, per pochissimo. Ho tirato fuori mappa, ragazzi, la palla. Fuori mappa, la palla. Vabbè, ammazziamo a quello grande. Al centro, al centro, l'ha presa lui. No, non stai a fare gol, ragazzi. No, 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 fa gol, fa gol. No, 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 l'ho portato fuori mappa, fuori mappa. Goal, goal, goal. Uccidiamola per 1 hit. Ho avvettato lui sulla palla. Vai, che c'è da quello grande. Quello grande, ragazzi, quello grande vuore. E' 1 hit. E' un pisto per stare in cielo. Anche il mio. Il mio ha tantissima mobility. Sono con te, Barca? Ma mi sa, è arca. Forza? Forza Napoli. Quindi abbiamo vinto noi. Ah no, abbiamo un minuto. Ma io die, ragazzi, ma io non ce n'è. L'attaccante è più forte. No, la da prima mappa. Dai che muore? La tizia? Morta. Sto cercando di quello grosso e di altro. Vai, ci sono. Sto su quello lì. Morto? L'ultimo? Ho segnato. Vai, troppo forti, ragazzi. C'è. Non ce n'è. Ragazzi, qua. Better player wins. Sempre con... Classificata. Ah, vai. GG in the shot, ragazzi. Da me, sulla destra, uno. Lo vedo? Tutto due sulla destra. Ah, questa mi... Ok, mi spanno poco. Oh, un cazzo di messa. Ma il mio personaggio fa malissimo? No, non cambia, giusto? Sì, sì, cambia, cambia. Da me, raga? Fa, fa, fa. Eh, lo faccio andare. Ma cos'è? Dragon Ball? Sono morta, raga. Mi ha distrutto. Non è male il suo giocatore, eh? No, sono abbastanza forte. Sì, si vede che l'hanno già giocato. Meglio, meglio. Uh. Che save. È più difficile sparare comunque. Fa più danno, ma è più difficile. Mi stanno nemmazzando. Sono one shot. Oh, sono forti, raga. 2v3 sono forti, questi, eh? Porca miseria. I won, I won. I won. Non volo. Distrutta. Stai rendendo premuto. Boom, l'ho spaccato. Rai che è mega boom? È mega boom? Morta. Mamma, è formalissimo. Non pensavo. È mega boom anche lei? Mi. Morta. Ok, ho caldo la dimensione del personaggio. Forte. Treva la mano, raga. No, è meglio di spaccarlo. È mega boom questa, checco? È one hit, one hit. Questa. Sono in mega boom. Mi ha ucciso. È forte questa. Questa qua è veramente forte. Morta? Morta. Guarda anche l'altro. Distrutta come. Bravi. Lo vuoi di tuoi? Mega boom tutte e due. No, è sempre lei. Si sta solo sdoppiando. Ah, è sdoppiando. Ok, è morta? Sta volando una. Ecco, è sopra, sopra, sopra. Guarda me. La vedo? Dai che devo fare sicuro, questa. Hittata? È mega boom? È sdoppiata quella a destra. Sono morta. Morta, morta. Oh, cavolo. No, 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 ma no, ma no, ma è forte, ma è più forte. È brava, quindi, comunque. Mega boom? Sono morta in un secondo. Morta? Mega boom anche lei? Morta? Morta. Let it go, guy. Sto qua sotto da me. Porca, ma che personaggio è? Quello che ho io, ma non lo so usare come lei. Lei è morta più forte di me. Hittata? Hittata di nuovo? Da me è quasi mega boom. Vai, solo, solo, solo. Mega boom. Morta? L'altra pure? Mega boom anche lei? È quella, è quella, ok. È morta, morta, morta. Guarda qui? Il treno toglie, troppa vita, non lo so. Sì, 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 non lo puoi prendere, ok? La vedo. È da me, da qua? Hittata? Beh, ha bezzato. Oddio, l'ha distrutta. Ma tu, l'hai messo one shot, è mega boom. È un secondo. A me è morto. Ah, beh, è il fantasma. Da me, da me, da me. È morta, morta. È mega boom anche il mio? Morto. Ok, è forte anche il mio personaggio, eh. Hittata due volte? Guarda mia che borsa io ho dato, ora la. È one hit, è morta. È morta, va. Ok, ora che ne devo usare anche il mio, è fortissima. È morta, è morta. Spaccata proprio. Ah, la posso pure raffinare o lei? In aria. Ok, è morta. Arrivo. One hit. Morta. Pog. Ok, mi spara. Brutto. È quello di sinistra, mi sa. Di altro uno, senti. Sotto, scotto, scotto. Morta. Maga boom. Ok. Allora, eravamo 3v2 e però c'era la tizia che era... La tizia era veramente brava, eh. Non so, quella con la coda verde. Per questo video è tutto, ragazzi. Io spero che vi sia piaciuto e che vi sia piaciuto soprattutto questo nuovissimo gioco. Fatemelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti che vi leggo come sempre. Detto ciò, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video e quando volete mi trovate su Twitch tutti i giorni. Link in descrizione. Una buona giornata dalla vostra Martina. Ci becchiamo presto. Ciao. 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 Ciao.